Musica Questa settimana per la rubrica il venerdì del sindaco ci troviamo a Germaniano. Siamo qui con la sindaca Mirella Mantini e ci troviamo però in un luogo particolare. Sì, questo è un luogo particolare perché è appena stato ristrutturato il teatro console che è stato inaugurato sabato 9 aprile alla presenza di tantissime persone e di tantissime autorità. Questo mi ha reso orgogliosa perché vuol dire che la cittadinanza di Germaniano che dagli anni 80 non riusciva più a entrare in questo salone è rientrata e quindi da oggi possono di nuovo far sì che rifare le loro feste, di fare il loro centro di aggregazione, di socialità, non soltanto per quanto riguarda i germagnanesi ma anche per tutti i cittadini che sono nell'interland torinese, quindi anche la stessa città di Torino piuttosto che persone che arrivano dal di fuori. E il Germaniano appunto deve essere questo punto di incontro anche perché è al centro, all'imboccatura delle tre valli. Che cosa trova un turista o comunque qualcuno che viene a visitare Germaniano? Quali sono le caratteristiche di questo comune? I turisti che arrivano qui, innanzitutto come abbiamo detto un momento fa, è il nostro teatro che sarà aperto a tutti quanti. E poi ci saranno anche altri punti di riferimento che sono i lavatoi. I lavatoi che li abbiamo rimessi a posto, che cercheremo ancora di rifarne degli altri prossimamente. E oltre a questi qui troveranno un fiume e un'aria, come vedete, limpida e bella, pulita. E' un fiume dove fino a poco tempo fa si pescava il temolo che arrivavano da persone sia dalla Lombardia piuttosto che anche dall'Inghilterra, anche perché appunto Caselli è molto vicino. Mentre nelle frazioncine noi abbiamo frazioni di Castagnole soprattutto, dove c'è un museo degli attrezzi e dove ci sono i forni. Quindi anche quella è un'attrazione che magari non si trova più da nessuna parte. Un'altra caratteristica qui al centro è che noi vorremmo portare a termine è quello di aprire al pubblico e quindi anche ai cittadini che arrivano, ai turisti che arrivano di fuori, un parco dove c'è una serra, dove si potrebbero mettere dentro dei fiori e stare sotto all'ombra e leggersi magari anche un giornale e fare socializzazione. Abbiamo intravisto arrivando qua che ci sono comunque servizi come appunto la scuola, cioè raccontato la scuola materna, la scuola elementare, la posta, insomma servizi che comunque sono importanti. C'è qualche criticità però? I servizi Germagnano le ha quasi tutti. Fino l'anno scorso c'erano anche i medici. Questa criticità purtroppo è venuta fuori un anno fa e cercheremo, cercherò, sarò sicura che ce la farò perché questo è quello che mi prometto, è quello di portare un medico qua perché purtroppo nelle nostre vallate, io ho già detto con i miei colleghi sindaci, che questo qui è l'appunto di un iceberg perché i medici purtroppo cercano di accentrarsi e decentrarsi dalle nostre vallate. Altre cose, c'è il trenino che collega Germagnano con la grande città. Questo qui ha proprio la fermata qui a Germagnano e un'altra a Funghera che poi prosegue fino a Ceres. Con le due stazioncine tipiche, io dico sono molto belle perché hanno una caratteristica soltanto che da l'anzi in poi hanno questa caratteristica e anche questo se noi riuscissimo a velocizzare questo viaggio, perché molti pendolari, io per prima viaggiavo da Germagnano a Torino tutti i giorni, se riuscissimo invece a velocizzare, secondo me verrebbero anche tante persone di nuovo ad abitare Germagnano. Questo è il nostro obiettivo, questo è quello che noi vorremmo per Germagnano. L'ultima domanda che le facciamo, quanta passione è necessaria, quanta passione ci vuole per fare la sindaca in un comune come Germagnano? Ci vuole veramente tanta tanta passione e tanto tempo perché un sindaco qui non è il sindaco che fa soltanto politica, ma qui è anche un sindaco che fa anche il dipendente e tante cose devono essere sbrogliate dalla stessa persona che purtroppo dovrebbe dedicarsi ad altro. Quello che mi ha spinto e quello che mi spingerà prossimamente è il bene per la collettività, il bene per Germagnano, la bellezza di Germagnano, l'amore per i cittadini germagnano. Io sono qui da 50 anni e non mi sono mai mossa e di conseguenza cerco di fare un qualche cosa per questa collettività, per la socialità e sociale in generale.